Grecci, i vostri uomini sono là, bene, sempre ho seguito l'Ori Sipanov, dite! Stasera un uomo sospetto, giunto appena di Russia, gli recava una lettera del fratello Valeriano, il fratello anche noi! Valeriano, null'altro, nulla, ho la prova suprema, la confessione sua, confessa il suo delitto, confessa, finalmente, egli sta per tornare, voi scendete in giardino, appena pronti, un segno, io lo concederò. Che cosa? Fate il vostro mestiere, non un credo, non un sincolto, abbiamo un papaglio! All'approccio della Senna vi attende la nave Elisabetta e quello suolo rosso! Obedirò, signora, o vivo o morto! Questa per l'ambasciata si è spedita all'istante a Pietroburgo! Voglio essere il generale Iaristin! D'ogni cosa lo informo, sarà fatto eccellenza! Silenzio! E lui, e lui, andate! L'ora e seppano, oggi lo zar nostro signore, Vieni io, atrocemente colpito, come un giorno, Vladimir Andreevich, da Enichiliste! E voi, siete dei quelli! Io, e falso! Vai! Ma perché l'uccideste? Per una donna! La mia! La tua! La mia! Mi amo ientimi tutto!